Ciao, sono Harry. Sto lavorando per essere sempre alla cerca di me stesso. Penso che questa possa essere un'opportunità, soprattutto per lavorare sui miei punti deboli. Uno di questi è il fatto di non sfruttare i miei piedi. Tramite lavoro di tecnica, palestra, voglio cercare di aumentare le mie capacità e abbassare di conseguenza anche il tempo. Io credo molto su un concetto, quello del processo. Bisogna rispettare ogni tempo. Ovviamente c'è chi è più predisposto, infatti i risultati si vedono subito. C'è chi, credo come me, ha bisogno solo di lavorare, di mettersi in gioco, crederci sempre per aspettare i risultati. Quindi bisogna sempre credere nel processo. Io sono curioso perché sono sempre alla ricerca del miglioramento. Sono uno energico, perché ci metto sempre il 100% quello che faccio. A volte esagero. Credo che la cosa più importante che mi rappresenti sia il fatto di essere consapevole del mio passato. Io vengo purtroppo, per fortuna, da una famiglia non molto ricca. Credo che a loro devo tanto. E credo che usando i miei mezzi fisici, usando l'atletica, questo gruppo di ragazzi che mi hanno coinvolto in questo progetto, io possa soddisfare i miei genitori in primis, fratelli, sorelle. Grazie.